Resol è da più di 35 anni il vostro partner affidabile nel campo dell'energia solare termica e della tecnologia di regolazione. Le linee di produzione più moderne, un dipartimento di ricerca e sviluppo all'interno dell'azienda e un ottimale management di qualità garantiscono prodotti avveniristici. I nostri prodotti sono orientati al futuro, ricercati e distinti nel loro design. Il nostro dipartimento di ricerca interno garantisce uno sviluppo dei prodotti sostenibile, così le prefigurazioni di oggi diventano gli standard di domani. Valori tradizionali come l'onestà, il rispetto e la responsabilità sono la base della nostra filosofia. Resol, la fiducia nell'esperienza.